Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video nel quale vi farò vedere tutte le possibili colture o quasi presenti nel gioco di Farming Simulator 22 Questo è un video un po' generale, ok stavo guardando per vedere se sto registrando Questo è un video generale dove ve lo faccio vedere tutto e vi spiego in breve qualcosina a riguardo Vi consiglio di passare in descrizione per tutti i dettagli dove vi spiegherò per ogni coltura cosa ci potete fare nello specifico, come si miete eccetera eccetera Non faccio questo, non spiego tutti i particolari in un solo video ragazzi se non vi trovate un video di 40 minuti e passa e non ci saltate fuori Quindi questo diciamo è un video generale in cui ve lo illustro tutto e poi ne parliamo Di quasi tutte le colture perché in realtà ne mancano due che sono quelle proprio più particolari aggiunte nel gioco che sono uva e olive Dedicherò un video dedicato a queste due colture, uno per l'uva e uno per le olive, dovrei lasciarlo qua in descrizione comunque ne parlerò in futuro Queste sono culture molto particolari e difficilmente riconducibili a queste altre Tutte le altre ragazzi ce le abbiamo qua sul campo quindi dovreste essere a posto Se per caso ho dimenticato qualcosa di molto particolare, una cultura molto particolare da ottenere Scrivetemelo nei commenti però dovrebbero essere tutte salvo DLC Allora vediamo se mi ricordo intanto l'ordine Ah, qualche premessina prima di partire Numero uno, l'orzo ragazzi nel mio gioco è bugato Cioè qua, fidatevi di me, qui c'è l'orzo Ok? Nel mio gioco questo orzo è completamente bugato e me lo fa vedere invisibile Vedete che comincia a farmelo vedere da lontano Se mi è lontano lo fa vedere però nel mio campo visivo non lo fa vedere Infatti io non coltivo mai l'orzo perché c'è questo bug qua Fatemi sapere se anche da voi è così Qualche premessina prima di partire dicevo Numero uno, guardatevi i video in descrizione per tutti i particolari su ogni coltura Numero due ragazzi, prendetevi un minuto per lasciare Ma che un minuto, dieci secondi per lasciare un like sotto al video Magari commentare e magari iscrivervi al canale Perché qualsiasi vostra azione fa per me la differenza nella realizzazione di questo e di altri video Allora, iniziamo dal frumento, la coltura a base di farming simulator Ok? Il frumento si può semplicemente raccogliere con una classica metri trebbia Classica lama, lascia della paglia Basta, non diciamo altro per questo video Stessa identica stampata cosa per l'orzo E per la vena Stessa identica stampata cosa Tutti e tre vengono raccolti e rilasciano la paglia E possono essere raccolti con la metri trebbia a base del gioco Con la lama a base del gioco Dopodiché abbiamo il sorgo Che condivide tutte le cose che ho detto Tranne il fatto che non lascia paglia una volta ammietuto Quindi può essere raccolto con una lama normale E non lascia paglia In modo identico all'orzo abbiamo sia raccolta che la soia Possono tutte e tre essere raccolte con lame normali di metri trebbia Ma tutte e tre queste colture non lasciano paglia E diciamo danno vita soprattutto alla soia A volumi molto minori Ma questo ne parleremo nel video dedicato ad ogni coltura Dopodiché abbiamo due colture abbastanza simili tra di loro Il gran turco e i girasoli Queste hanno bisogno di lame speciali per essere raccolte Nel caso del gran turco può essere raccolto solo dagli spannocchiatori Che sono queste lame speciali che hanno proprio una categoria a parte sul mercato Vedete che queste lame possono raccogliere anche i girasoli I girasoli invece possono essere raccolte sia dagli spannocchiatori Che da lame speciali fatte solo per i girasoli Che sono queste qua Vedete che queste lame sono molto veloci a lavorare il prodotto Infatti per questo vi dovrebbe convenire raccogliere i girasoli Però possono raccogliere solo i girasoli Ma di questo ne parleremo di nuovo nel video dedicato Entrambe queste colture non lasciano paglia dietro Infatti le uniche tre che lasciano paglia sono le prime tre Frumento, orzo e avena Andando avanti finiscono purtroppo le colture normali Che possiamo raccogliere con una mitetribe normale Cambiando semplicemente lama Iniziano le colture speciali Troviamo l'erba Ok Il raffano oleifero Eccetera eccetera Adesso ne vediamo una volta L'erba può essere mietuta Anzi può essere falciata Possiamo ottenere l'erba oppure con un voltafieno possiamo girarla E ottenere del fieno Tutte queste robe servono principalmente per essere o vendute O date da mangiare le nostre mucche o altri rimali Trovate in descrizione dei video dedicati Raffano oleifero è la cultura più speciale Ha giusto una cosa interessante sull'erba ragazzi Questa è l'unica cultura che abbiamo visto fino ad adesso Che una volta falciata ricresce Non va ripiantata Molto molto buona questa cosa Raffano oleifero è forse la cultura più speciale di tutte Perché non è fatto per essere raccolto Ma è fatto solo per fertilizzare il terreno C'è un video dedicato Quindi una volta piantato Bisogna passarci sopra con un attrezzo E si fertilizza il terreno È molto rapido a crescere Dopodiché abbiamo tre colture che vanno praticamente di pari passo Che sono barbobietro da zucchero Patate e cotone Tutte e tre queste cose vanno piantate con delle piantatrici E richiedono tutte e tre delle miti trebbie E della trattatura Completamente dedicate Infatti ve la faccio solo vedere rapidamente Patate, barbobietole e cotone Ne paro nei miti dedicati Non perdo troppo tempo in questo qua Anche perché voglio farlo durare relativamente poco Richiedono anche operazioni speciali per essere metute Cioè prima di poter essere metute Dovete come viene indicato dalla mappa Praticamente tagliare questo fogliame che c'è sopra Prima di raccogliere barbobietole e patate Anche se ci dovrebbero essere delle macchine che fanno tutto insieme Dopodiché il cotone va più o meno di pari passi con queste altre due colture Anch'esso una volta raccolto va ripiantato Non va tagliato fogliame per il cotone Però è un po' speciale perché non si può mangiare Cioè tutte queste cose che abbiamo visto fino ad ora Erano in qualche modo ricondotte al cibo Invece il cotone si usa solo per i vestiti Si usano delle miti trebbie molto speciali per raccoglierlo Come già detto E sì, ci serve molto di più da dire sul cotone Infatti vedete che ne ho pentato molto perché dovrò fare il video a riguardo Cercate in descrizione Dopodiché abbiamo le ultime due colture che sono forse quelle più particolari L'ultima è davvero quella più particolare in assoluto Che sono canna da zucchero Una coltura abbastanza semplice In realtà non c'è molto da dire Si pianta in un modo molto particolare Si raccoglie con una miti trebbia molto particolare E come l'erba questa qua una volta raccolta Ricresce quindi non va ripiantata Ho fatto un video a riguardo Cercate in descrizione L'ultima coltura di cui andiamo a parlare Sono i pioppi Esatto, si possono raccogliere i pioppi su questo gioco Io sinceramente ho una cosa che non mi piace fare Perché sì, mi sembra abbastanza brutto Però i pioppi si raccolgono solo ed unicamente per il cippato Basta, possono essere raccolti in modi diversi Con una trincia, con un'imbarattrice speciale O con altri attrezzi Trovate anche qua i video sui pioppi in descrizione Non sono sicuro al 100% Sicuramente nel video lo dirò Se questi una volta tagliati possono ricrescere Però direi di sì O meglio, non vedo perché no Comunque cercate in descrizione del video Lì lo dirò sicuramente Perfetto ragazzi Queste erano tutte le colture Diciamo standard del gioco Senza considerare olive e uva E niente Andatevi a cercare in descrizione il video per ognuno Magari farò anche un video dove vi dirò Quella che produce di più Cioè quella che vale di più Quella che conviene di più Coltivare per farci i sordi Anche se in generale queste colture vanno coltivate per motivi diversi Cioè l'erba in particolare E le prime tre Per ottenere la paglia Io le coltiverei se dovessi elevare delle mucche ovviamente Perché avrei un sacco bisogno di paglia Ed erba e di fieno Quindi coltiverei quelle tre Anche se non mi danno particolari godagni economici Io principalmente Una delle mie preferite è la soia da coltivare Però anche qua ci sarebbe una bella discussione da fare Questo è tutto quello che avevo da dire per questo video ragazzi Ricordatevi di lasciare un like e di commentare se il video vi è piaciuto Noi ci vediamo ai prossimi video dedicati Nello specifico ad ognuna di queste colture Descrizione Ciao ragazzi